I carabinieri che fanno? I carabinieri che fanno i carabinieri qua? Non si obbedeva l'ordine superiore sempre, però ho trovato belle cose. Che cosa ha trovato? Hanno avuto tanto perdono, mi avranno avuto. Tanto perdono? Dove? Io avevo definito il 16 marzo 78, un giorno indelebile nella storia di Roma e del mondo. L'altro giorno era a Roma e sull'angolo c'è il palazzo del senato, poi c'è un'astrettoia e c'è un altro palazzo e sull'angolo hanno messo un orologio, l'hanno bloccato un minuto alle 9, è il minuto del giorno di via Fano. Un guaiolo, però, bloccato proprio lì, un orologio così, lo vedi lì su questa, un minuto alle 9, un minuto alle 9 e cominciò l'inferno in via Fano. 16 marzo del secondo. 16 marzo del 78, Raffaele. Che vennerà bloccato dopo 30 anni, un orologio così. Hanno avuto tanto perdono, ne avranno ancora. Quelli di campo li mandavamo tutti a Montecristo, a noto però, e no con la vacca la zatera, bisogna farci una attraversata. Campo, Montecristo. Ciao. Saluto dai carabinieri. Oggi obede, obede, a loro, dimmi se per io lì sembra. Ha itto lei. Ha itto io.